Quindi salve a tutti, come diceva Fabio, sono Marco Ferrara, sono un architetto, quindi diciamo che la mia provenienza è prettamente legata alla professione, elevata all'attività, poi mi occupo di didattica, di docenza, di formazione in generale e da ormai quasi tre anni, io insieme all'architetto Marzia Filatrella stiamo portando avanti quello che è un progetto, che è un progetto che vuole portare alla conoscenza, alla diffusione di quello che è non solo un sistema di strumenti, di strumenti utili alla professione, ma soprattutto è una cultura, è in qualche modo anche una visione di un modello di società alternativo che sottostà a quello che è nato sotto un influsso che ora vedremo, parleremo tra un po' di informatici che hanno definito quello che oggi conosciamo come software libero. Ora, parlare di software libero, in generale parlare di software, me ne rendo conto, continuando a occuparmi anche con ragazzi giovani, oltre che con professionisti, l'attività di software libero per l'architettura si sviluppa principalmente attraverso le collaborazioni con enti come Agape o con gli ordini professionali in particolare. E mi rendo conto ogni volta che parlare di software non è semplice, perché anche se effettivamente sono ormai una trentina d'anni che il computer è entrato nelle nostre vite, di fatto c'è una coscienza molto molto scarsa riguardo la natura del software, riguardo a cosa parliamo quando parliamo di software. Allora, per essere un po' più chiaro, per cercare di essere compreso, essere il più comprensibile possibile, invito a chi sta seguendo a provare a costruire un'immagine, da un'immagine vorrei partire, provare quindi a immaginare tutte le fotografie che si posseggono, pensarle tutte insieme, tutte le foto fatte, quelle digitali con il cellulare, fatte con la macchina digitale, piuttosto che quelle stampate, le foto del matrimonio, della festa di compleanno, della festa di laurea, della gita in vacanza, di provare a raccogliere tutte le immagini appunto da noi prodotte attraverso dispositivi fotografici, anche cinematografici, Super 8, VHS, DVD, ecco, tutta la nostra memoria sostanzialmente, quindi anche la memoria dei nostri cari, degli avi appesi alle pareti, prendere tutto questo parco di materiale che appunto racconta la nostra storia e di chiuderlo dentro un baule, chiudere il baule a chiave, prendere la chiave e portarla all'azienda che ha prodotto l'apparecchio fotografico, le aziende che hanno prodotto gli apparecchi fotografici con cui abbiamo fatto queste foto. Ecco, di fatto questa è la condizione in cui ci troviamo, in cui si trova chiunque, utilizza per la propria professione ma non solo, software non libero o proprietari formati non aperti. Ecco, quando si parla di software libero, si parla spesso di efficienza, di gratuità, del fatto che si tratta di strumenti sicuri, trasparenti, che ci garantiscono da rischi, ma in realtà quello di cui si parla meno, ed è in realtà il motivo per cui è il caso invece di porre l'attenzione, è il concetto di libertà. Allora, devo farmi un po' di spazio perché non vedo, ok. Allora, stavamo dicendo, avevamo questa immagine dove tutta la nostra memoria viene tenuta sotto chiave da un'azienda sostanzialmente, da più aziende che spesso stanno dall'altra parte dell'oceano. Ecco, sostanzialmente quello che accade è che noi per vedere questo materiale, per vedere le foto nostre, quelle che abbiamo prodotto noi, dobbiamo chiedere questa chiave a queste aziende che producono appunto, che hanno prodotto l'apparecchio. E questa chiave noi normalmente appunto la chiediamo e dobbiamo rinnovarne la possibilità appunto di accedere a questo materiale attraverso dei sistemi, delle licenze, le licenze che spesso sono molto costose. Siamo costretti a rinnovarli periodicamente, anche se appunto il materiale l'abbiamo già prodotto e non abbiamo, magari non utilizziamo più quell'apparecchio fotografico. Ecco, di riuscire a, anche in maniera non lecita, rischiando anche la galera, perché di questo si tratta, appunto a poter forzare questo baule per poter accedere al nostro materiale. Di fatto non siamo comunque garantiti, perché anche continuamente queste chiavi vengono rinnovate, continuamente questi strumenti, questi software vengono appunto ripristinati in nuove versioni e quindi nessuno ci garantisce che la politica aziendale dell'azienda che appunto ha i software, che produce i software che utilizziamo, che ha le chiavi del nostro materiale, non cambi e magari porti a delle condizioni in cui non abbiamo più la possibilità di accedere alle vecchie versioni. Questo è l'esempio, per esempio, di cosa accade quando viene rinnovata la versione di un software, continuamente, ogni anno, ogni anno viene riscritto il codice che ci permette di aprire i nostri file in un formato, in un formato specifico, che è sempre nuovo e quindi sempre da riacquisire, sempre da ricomprare sostanzialmente. Appunto dicevamo anche nelle politiche aziendali, questo è un esempio di un fatto abbastanza recente, è accaduto nel 2005, quando la Adobe, una grossa azienda che produce Photoshop, produce più importanti strumenti per la produzione grafica e multimediale, ha acquisito la Macromedia. La Macromedia è un'importante azienda che ha tra i propri programmi a Flash, a Dreamweaver e aveva anche Freehand. Freehand è un programma storico, io lo ricordo, il primo computer che ho visto, diciamo, in ambito professionale aveva questo programma e cominciai anche ad utilizzarlo all'inizio, i primi Apple. Ecco, un programma storico che si occupa di disegno vettoriale. Ecco, quando la Adobe acquisì Macromedia, chiaramente ci fu una preoccupazione, perché la Adobe aveva al proprio interno, nel parco dei propri prodotti, Illustrator, un programma assolutamente analogo a Freehand. E quindi la preoccupazione di una comunità intera, di utilizzatori storici di Freehand, che avevano necessità di continuare ad aprire i file prodotti con questo programma e soprattutto anche di non dover cambiare abitudini, di non dover cambiare interfaccia, di non dover cambiare strumento. Ecco, si sono trovati nella preoccupazione che il loro programma venisse smesso, non si continuasse lo sviluppo del programma. Nel 2006 la Adobe garantisce con un comunicato che il programma continuerà ad essere sviluppato. Nel giugno del 2006, nel maggio del 2007, la notizia è che la Adobe non avrebbe più proseguito nello sviluppo di Freehand. E tutt'oggi, se andiamo sul sito della Adobe, sul prodotto Freehand, che comunque è ancora vendibile, la stessa Adobe comunica e invita i propri utenti a cambiare strumento, forzandoli sostanzialmente in una scelta, quindi in una scelta che riguarda la libertà delle persone. Ecco, questa è invece una mail che abbiamo ricevuto, io appunto, il nostro studio, poco tempo fa, un mese e mezzo fa circa, dove una collega ci raccontava un fatto che è assolutamente normale, ovvero il fatto che si trovava ad avere un archivio di file costruiti con un programma, Vectorworks, un programma di una versione non vecchissima, stiamo parlando del punto della versione 2008, e nel momento in cui si è trovata nella situazione di dover aggiornare il sistema operativo, perché solo aggiornando il sistema operativo poteva continuare a utilizzare al meglio il programma, quindi per esempio accedere al Mac Store, come ci segnalava, ecco, non avendo compatibilità la versione che lei possedeva di Vectorworks, avrebbe sostanzialmente dovuto rinunciare al proprio archivio. E quindi la collega ci chiedeva se c'era una soluzione open, una soluzione gratuita, perché non era nella condizione, in questo momento tra l'altro, di poter acquistare una nuova versione di Vectorworks, soprattutto anche perché non lo utilizza più di fatto, chiaramente nella nostra professione questo è un elemento abbastanza importante, che bisogna considerare l'elasticità, la necessità di essere liberi, appunto, di poter molto facilmente cambiare, cambiamo professione quasi periodicamente, insomma ci occupiamo di cose che spesso hanno una durata abbastanza definita, ecco, non avendo la possibilità di comprare un nuovo programma, che è questo se c'erano delle soluzioni gratuite, per poter aprire i propri file, i file che ha fatto lei sotto il formato VWX. La soluzione purtroppo non c'era e di fatto, successivamente ci siamo resentiti e di fatto l'unica cosa che poteva fare appunto questo professionista era quello di tenere fermo il sistema operativo, bloccare la produttività di uno studio per continuare a poter accedere a quei file. Allora, quando stiamo a pensare, no, se pensiamo a tutti i file che abbiamo prodotto, da quando eravamo all'università, quindi formati come quelli che leggiamo, formati proprietari, ecco, di fatto non può non venire in mente che si tratta di tutta memoria, memoria che abbiamo prodotto in ostaggio, chiusa appunto, secondo le decisioni, diciamo, legate alle decisioni delle aziende, alle decisioni e anche alle fortune delle aziende, perché dobbiamo sempre sperare che un giorno, insomma, quelli che sono dei colossi molto facilmente accade nell'ambito informatico, crollino e con loro, quindi falliscono e quindi con loro anche la possibilità di poter continuare a mantenere fruibile il nostro materiale. Allora, abbiamo detto un po' che cosa è essere utenti di software non libero, per capire invece come nasce, che cosa è invece il software libero, dobbiamo fare due passi nella sua storia. A partire dagli anni 60, quando i computer non erano portatili, non erano neanche personal computer, erano delle grosse macchine che venivano vendute in leasing alle grandi università piuttosto che alle grosse aziende e quindi il software di fatto era legato all'acquisto, il software non si spostava da un computer all'altro, ogni computer, ogni macchina aveva il suo software tarato su quella macchina e quindi la vendita di fatto appunto era una vendita che comprendeva l'assistenza, lo sviluppo, il debugging, quindi era un sistema estremamente bloccato, hardware e software vivevano insieme, le stesse aziende che producevano l'hardware producevano anche il software. Succede nel 1969, per la prima volta la IBM, che ha il monopolio dell'informatica tuttora, allora chiaramente anche, decide di vendere separatamente software e hardware, di fatto costituendo un passo, un passo assolutamente nuovo nel panorama di quello che era un mercato che ancora non era definito e di fatto questo accade, cioè si comincia a definire, comincia ad aprirsi una prospettiva di mercato, quindi di fare soldi, rispetto a questo mondo, quello del software, non esistevano appunto le software house, chi faceva hardware faceva anche software, invece cominciano a nascere, cominciano a svilupparsi sistemi operativi che hanno il grande merito di permettere ad un software di girare su macchine diverse, su hardware diversi e quindi appunto quello del software diventa un mercato nuovo, un mercato, una sorta di prateria da poter conquistare, appunto una conquista di uno spazio del tutto nuovo, del tutto vuoto. Ecco, tra l'altro come vediamo proprio in quegli anni anche le macchine cominciano ad essere più accessibili, sono macchine che cominciano a nascere i primi mini computer, che poi diventeranno i personal computer che conosciamo oggi e quindi si tratta di strumenti accessibili economicamente e tecnicamente. Nel 1976 viene riscritto, viene fatta una riforma molto importante nella legislazione statunitense riguardo il copyright, nel 1980 viene inserita in questa legge, quindi nel codice degli Stati Uniti dal congresso viene inserita la protezione con copyright sul software, è la prima volta che accade. Ecco, dobbiamo provare a cercare di ricordarci quegli anni, la fine degli anni 70, inizio degli anni 80, viene eletta la Thatcher, viene un'idea di mercato che non deve essere disturbato, il neoliberismo, non bisogna appunto porre dei limiti, lo Stato deve ritirarsi e quindi bisogna concedere a tutte le forme di crescita economica di non essere in qualche modo regolamentate, considerando questi dei laccetti, considerando questi dei sistemi che avrebbero inibito quella che era la mano che regola la libera concorrenza in interno del mercato. Ecco, sono quegli anni lì e quindi nessuno si oppone a quello che è un nuovo campo che come tutte le novità dovrebbe essere appunto regolamentato. Ecco, un po' di problemi, ci sono un po' di questioni da risolvere, per prima cosa è il fatto che il software non è unico, nel senso che il software ha una facilità di essere copiato, il software è codice, il software sono istruzioni, sono parole e questo vuol dire che non è di per sé alienabile e allora bisogna trovare dei sistemi per rendere il software una merce vendibile. La prima cosa che viene fatta è l'utilizzo di licenze. Allora, credo che se, come mi sembra, ad ascoltare siano dei professionisti nell'ambito del progetto, della professionalità del progetto, quindi architetti, ingegneri, geometri, ecco, tutti noi abbiamo, ci siamo trovati di fronte a una schermata del genere e per esperienza, per aver fatto questa domanda di fronte a centinaia di architetti, in decine, in numerosi, in una decina di ordini professionali diversi, ecco, nessuno ha mai letto quello che c'è scritto in questo accordo, quando noi installiamo il programma ci viene fuori questa bella scritta e ci viene richiesto di essere d'accordo con quello che sta scritto qua dentro, non lo legge nessuno, allora per essere d'aiuto ne estraggo io qualche elemento utile. Allora, la licenza di utilizzo di AutoCAD, in realtà, qui stiamo prendendo questo come programma, ma le logiche sono abbastanza simili anche per gli altri programmi, impone nell'utilizzo del programma delle limitazioni, quindi limitazioni per esempio di trasferimento, di noleggio, di prestito, cioè questo bene che abbiamo acquistato spesso pagando molto, non è per esempio utilizzabile neanche come bene che si può mettere a seguito di un fallimento di un'azienda, non è cedibile e quindi diciamo anche se abbiamo speso molti soldi per acquistarlo, ecco questo, non possiamo metterlo all'interno del Cespi, è necessario ripianare eventuali debiti, non è chiaramente possibile studiarlo, non è possibile installarlo su più macchine, una volta che lo compriamo siamo costretti a usare una macchina, gli ultimi programmi ormai consentono un'installazione su un portatile e su un fisso, considerando che questa sta diventando una modalità normale, è legato alla territorialità, quindi se lo acquistiamo in Europa è qui che possiamo utilizzarlo, è indicato con una vaghissima parola di limitazioni, appunto sono opposte delle limitazioni non sull'utilizzo di chi usa una versione educational, quindi tutti gli studenti, ma delle limitazioni sui prodotti, sui lavori prodotti dagli studenti. Di contro la stessa azienda si conserva, si riserva il diritto di poter richiedere una prova soddisfacente, così definita dell'avvenuta disinstallazione o distruzione del prodotto una volta che l'accordo in qualche modo termina, si riserve il diritto di fare ispezioni dentro lo studio, dentro il nostro studio tramite preavviso, è anche quello di divulgare quelle che sono le informazioni sensibili, personali, che abbiamo dato per stipulare un accordo a enti terzi. Ecco, quando si parla di software, in realtà oggi, ancora di più oggi, piuttosto che 10 o 20 anni fa, non si sta parlando solo di programmi, di applicativi, si sta parlando di qualcosa di più ampio. Oggi la codificazione digitale ci permette di mettere sotto forma di codice, e quindi di software, la musica, la letteratura, il cinema, sostanzialmente tutta la conoscenza che oggi abbiamo, è codificabile appunto attraverso la codificazione appunto digitale, e quindi vuol dire che è conservabile, quindi tramandabile attraverso questa idea. Quindi noi quando parliamo di software dobbiamo cominciare a pensare al software come come conoscenza, come sapere. E allora faccio un po' di esempi, faccio un paio di esempi su quello che è il modo in cui questo bene, cioè quello del sapere, viene inutilizzato. Questa è la licenza, la prima licenza di un software che è uscito un anno e mezzo fa, più o meno, un paio di anni fa, da parte dell'Apple. Un software molto simpatico, molto carino, un software permetteva di costruire dei libri, di poter fare dei libri con delle immagini naturalmente, con dei video, con dei libri multimediali, dei e-book, dei libri elettronici, degli e-book. Ecco, nella prima licenza di questo programma era specificato che la vendita del libro, una vendita appunto a pagamento, rispetto insomma a un pagamento, se non veniva rilasciato gratuitamente, poteva essere distribuito unicamente attraverso gli store di Apple, iTunes, per capirsi. E nella clausola chiaramente era anche indicato che la Apple era l'unica che aveva a propria discrezione, senza alcun criterio specificato, alcuna definizione altra, la possibilità di decidere se o meno pubblicarlo. Quindi l'azienda si garantiva semplicemente nel fatto di fornire uno strumento il controllo e l'esclusiva sui prodotti, prodotti con quello strumento e sulla distribuzione. Chiaramente questo ha creato fortunatamente un grande dibattito, una grande reazione da parte degli utenti Apple, che hanno costretto a cambiare i termini della licenza. Ora la licenza non è tanto cambiata in realtà, però consente la possibilità a chi salva in un formato non iBook, ma in un formato PDF, di poter utilizzare un proprio rivenditore, insomma di fare del proprio lavoro quello che si vuole, di essere libero di farlo. Come iBooks Autor, appunto il programma di cui abbiamo parlato, è sempre di Apple, si può per esempio notare quelli che sono i termini attraverso cui noi possiamo utilizzare gli acquisti che facciamo su iTunes, i DVD, i film, la musica. Ed è molto interessante vedere come viene descritto il bene, il bene culturale, quando stiamo a noleggiare un film stiamo parlando di questo, è sottoposto a dei sistemi, si chiamano DRM, che di fatto autodistruggono il bene se non è utilizzato secondo quelle che sono le regole date e dettate dall'azienda, che anche quando compriamo l'oggetto, quindi neanche nei casi di noleggio, ma quando lo acquistiamo e quindi dovremmo considerarci proprietari di quell'oggetto, siamo estremamente limitati nell'utilizzo che facciamo di quell'oggetto. Non possiamo copiarlo fino oltre un tot di volte, non possiamo utilizzarlo su più dispositivi alla volta, più di tot dispositivi alla volta e se lo compriamo con un prodotto, quelli di ultima generazione dell'Apple, per una questione tecnica, non possiamo che vederlo su quel prodotto lì, possiamo appunto, possiamo visualizzarlo solo sull'iPhone 4, eccolo qua, i film noleggiati attraverso l'iPhone 4, l'iPad, l'iPod, non possono essere trasferiti, dobbiamo vederli lì. E allora, utilizzando una descrizione di Stefano Zacchiroli, che è un importante esponente della cultura del software libero, siamo di fronte a un'idea di consumo della conoscenza, di conoscenza come bene deperibile, come bene, come merce, che appunto possiamo rivendere, ma per farlo dobbiamo renderla appunto a scadenza, dobbiamo mettere una scadenza su quello che è il sapere prodotto. Ora, ritornando un po' a dove eravano i master, gli anni 80, ecco all'epoca, siamo appunto alla fine degli anni 70, inizio anni 80, hacker aveva un significato preciso, che oggi è stato stravolto, oggi noi conosciamo la parola hacker, gli attacchi hacker, come una parola di gente cattiva, sostanzialmente, di gente che fa dei danni, entra dentro i computer, li rompe, insomma crea dei danni. In realtà la parola ha ben altro significato, ben altro origine. Hacker è un termine che nasce all'MIT, quindi all'Istituto, al Massachusetts Institute Technology, negli anni 60 e di fatto descriveva una comunità, una comunità che era legata da dei valori, una comunità di informatici, oggi potremmo definirli smanettoni, gente un po' pazza che amava giocare con il codice, amava giocare con le proprie capacità di portare sempre un pelo oltre quelli che erano dei limiti, quindi alzare sempre l'asticella delle proprie sfide. Ecco, questo era una cultura ed era una cultura legata anche a dei principi etici molto forti, che nulla avevano a che vedere con l'idea di saccheggio, di vandalismo, di illegalità soprattutto. Ecco, succede che questo termine piano piano comincia a cambiare senso. Una volta che il panorama è quello di un mercato da conquistare, di una prateria appunto da occupare, chi la occupa di già, chi pone degli ostacoli a questa conquista, di fatto deve essere considerato un nemico, un po' come gli indiani venivano considerati nella cinematografia hollywoodiana fino agli anni 50, fino a che non ci si è resi conto che la storia in qualche modo non era esattamente così, non erano loro i cattivi. Ecco, tra il 1983 e il 1985 uno di questi hacker, uno di questi informatici all'MIT decide di opporsi a questo sistema, trova che questo sia un sistema estremamente dannoso, pericoloso, soprattutto quello che trova è che stava venendo meno quello che era il legame fraterno tra gli hacker, tra queste persone, queste persone che erano di fatto la mano d'opera, la forza lavoro più importante in quel momento, era dall'MIT, da Berkeley, da queste università che venivano presi i principali produttori di software e quindi questi erano gli amici loro che però dovevano sottoscrivere nel momento in cui venivano ingaggiati da un'azienda, dovevano sottoscrivere dei patti, si chiamano non disclusive agreement, quindi accordi di non divulgazione, dei patti di segretezza dove non potevano più definire, non potevano insomma rivelare a nessuno quello che era il codice sviluppato da loro stessi. Quindi tra l'83 e l'85 nasce il progetto GNU e la Free Software Foundation, nasce quindi il software libero ad opera e grazie a Richard Stallman. Il progetto GNU è l'idea di un software, un sistema operativo completamente libero, che fosse appunto basato su questa libertà di azione. È l'elemento chiave che ci permette di capirne e di vedere appunto, di capirne pienamente quello che è il senso e la licenza. Tutti i software liberi, diciamo ci sono diverse licenze ma principalmente i software liberi vengono rilasciati con questa licenza, la licenza GNU appunto. È una licenza che si basa, e lo fa in maniera molto forte, al punto da essere considerata virale, come è, si basa su quattro libertà, su quattro libertà da imporre. Quindi la libertà zero, libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo, non solo per esempio in ambito non commerciale, piuttosto che per studio, per qualsiasi scopo. libertà di studiare il programma e di modificarlo, questo vuol dire che bisogna poter accedere al codice, il codice deve essere accessibile, deve essere rilasciato insieme al programma. Libertà di ridistribuire le copie del programma in modo da aiutare il prossimo. Libertà di migliorare il programma e di distribuirne pubblicamente miglioramenti in modo che tutta la comunità ne tragga benefici. Oltre l'aspetto comunitario, l'aspetto di idea non egoistica, non legata a un'idea di concorrenza, di un mercato che in qualche modo detta anche quelli che sono i comportamenti di una società. A parte questo, come giustamente fa notare il Presidente dell'Associazione del Software Libre in Italia, che è un professore molto importante, assolutamente reggevole come persona, Renzo Davoli, dell'Università di Bologna, se leggiamo programma, software, con quello che di fatto è il termine che più ampiamente lo descriverebbe, cioè conoscenza, e se sostituiamo queste libertà, cioè la parola programma, la parola conoscenza, scusa, la parola programma in queste libertà, sostanzialmente stiamo leggendo dei diritti propri della Costituzione, della nostra Costituzione, libertà di eseguire la conoscenza, che vuol dire libertà di parola, libertà di stampa, quella di distribuirla, la conoscenza, libertà di ricerca, che è quella di migliorare il programma. Ecco, quindi quando parliamo di software dobbiamo sforzarci di capire che dietro ci sta qualcosa di molto più importante, sempre di più, sempre di più nel momento in cui i nostri dati, buona parte della nostra vita oggi passa quasi direttamente, quasi unicamente nella forma del codice, tutte le foto che mettiamo su Facebook, tutti i termini di servizio che non leggiamo quasi mai, ma in realtà andrebbero fatti, quando appunto sottoscriviamo un account con quel forum piuttosto e con quel social network. Ecco, abbiamo parlato di codice, perché l'altra questione chiaramente che è stata necessario fare per rendere il codice una merce, qualcosa di vendibile, è quello di chiudere il codice. Allora diciamo molto brevemente che cosa è il codice. Allora il codice, ecco, una serie di istruzioni abbastanza comprensive, cioè diciamo non astruse, nel senso più o meno il codice si basa su delle parole, parole inglesi, con una sintassi specifica. Ecco, per spiegarle in maniera molto semplice, il codice è la scrittura del software. In qualche modo possiamo pensare al codice come alla ricetta della pietanza. La ricetta sta alla pietanza come il codice sta al software. Ecco, ora io mi chiedo effettivamente, una volta che come viene fatto, come accade normalmente quando acquistiamo o anche quando prendiamo illegalmente un software, ecco, quello che abbiamo noi è solamente questa parte, è solamente il software, solamente quello di cui appunto ci nutriamo. Ecco, io non riesco a immaginare, ci penso spesso, ma non mi viene in mente nulla. Qualsiasi bene di cui noi facciamo utilizzo senza sapere cosa c'è dentro. Noi non compreremmo mai una scatola di biscotti, piuttosto che un pacco di pasta, senza avere la possibilità di accedere agli ingredienti, di sapere come sono stati fatti, di vedere che c'è una certificazione che garantisce che sono stati fatti secondo dei criteri, diciamo, riconosciuti e accettati. Ecco, questo è quello che invece facciamo sempre quando utilizziamo un software non libero, ovvero mettiamo dentro la nostra macchina, dentro i nostri computer, che spesso conservano anche dati importanti, degli strumenti di cui non abbiamo idea di cosa c'è dentro e che a prescindere dalla buona fede che si può avere verso l'azienda che li ha prodotti, non è chiaramente immune da difetti, difetti connaturati appunto al fatto che vengono prodotti da persone che quindi possono sbagliare. Allora, quello che appunto nasce con Stallman è un'idea di un software, appunto di concepire il software in maniera diversa. Quello che però probabilmente non prevedeva, immagino, non prevedeva Stallman quando appunto ha cominciato il progetto GNU è quello che è venuto fuori, quello che è venuto dopo dal modello del software libero. E allora tutti credo abbiamo sentito parlare se non utilizziamo, se non conosciamo direttamente di Linux, che andrebbe più correttamente definito GNU, Linux, perché è un sistema che Linux è solamente il kernel, si appoggia su una struttura appunto che è quella del software libero, del software GNU. Ecco, dallo sviluppo, stiamo parlando dell'inizio degli anni 90, il 91 se non ricordo male, Torvalds, crea e fa nascere un nuovo progetto, appunto quello di Linux, un progetto che ha grandissima qualità, ma soprattutto quello che viene fuori è un processo, un modello di produzione differente, un modello di produzione che oggi definiremo crowdsourcing, cioè un modello di produzione che permette a tutti di poter partecipare in maniera appunto aperta, il codice viene rilasciato e tutti possono farne quello che vogliono, non dover chiedere il permesso a qualcuno e poterne fare delle distribuzioni o delle versioni autonome. In questo modo la qualità, e non solo in termini assoluti di qualità del prodotto, ma il fatto che il prodotto realizzato sia il più coerente possibile, adeguato possibile a quelle che sono le esigenze di una comunità che lo ha sviluppato, ecco questo è un elemento che non si può avere in nessun modo con un'azienda, un sistema centralizzato, quello che viene definito sistema a bazar, come pochi anni dopo la nascita di Linux uno degli hacker vicini al movimento di Stolman definisce un sistema a bazar dove è tutto orizzontale e non c'è un sistema verticale, appunto quello che lui definisce a cattedrale, che è quello dei sistemi proprietari. Ma in realtà non parliamo solo di software, Wikipedia oggi lo conosciamo tutti, Wikipedia oltre a lavorare con software libero, perché è questo il software utilizzato, MediaWiki è un software rilasciato con licenza GNU, ma soprattutto è un sistema di produzione, un sistema di produzione collaborativa, orizzontale, che ha chiaramente le sue regole, ma che oggi ha prodotto quella che è una delle enciclopedie, sicuramente la più grande mai esistita, la più imponente, ma anche una delle più corrette, una enciclopedie di cui è stato accertato il grado di errore ed è assolutamente comparabile con quelle che sono le enciclopedie storiche, con l'enciclopedie britannica. Ma non solo, perché è sempre su quel modello, è sempre sul modello delle libertà di Stolman che sono nate le Creative Commons, ovvero un sistema di copyright, in realtà non sono alternative, ma si aggiungono al copyright, che in qualche modo liberano il copyright, che è una legge che vige in tutto il mondo, attraverso tra l'altro dei patti che legano il copyright di uno Stato a quelli di un altro, e che impone automaticamente ad ogni nostra produzione un'esclusività, un'esclusività di diritti di utilizzo. Ecco, attraverso le Creative Commons si è cominciato a poter pensare alla musica, al cinema, alla stessa Wikipedia, è tutta rilasciata sotto licenza Creative Commons, come beni culturali che bisogna mantenere liberi, utilizzabili, che nessuno debba dover chiedere il permesso. E in realtà il modello di sviluppo partecipato, il modello appunto di produzione open source è uscita fuori dall'ambito del software, dall'ambito dell'impalpabile, il progetto RepRap, il progetto di una stampante 3D, che si autoriproduce, almeno in parte, almeno per adesso, è un sistema che ha lo stesso diagramma di sviluppo di Linux. Chiunque può scaricare una RepRap o le istruzioni per costruirla, quindi senza acquistare nulla, diciamo, da un ente specifico, e costruirsela, modificarla, farne un'evoluzione. Quindi quello che di fatto si viene a creare è un sistema evolutivo, è un'ecologia delle idee, dove le idee si incontrano, si riproducono, si riproducono e generano nuove visioni, nuovi sguardi. Arduino è un altro esempio, molto famoso, tra l'altro italiano, di hardware open source, hardware assolutamente adattabile, assolutamente anche autoproducibile e adattabile a quelle che sono le esigenze. Con Arduino oggi ci sono progetti di tutti i tipi, una scheda elettronica programmabile. Quindi quello che viene fuori è di fatto un diverso modello sociale, un modello che ha al centro l'idea di comunità, l'idea di utilità, di efficienza di quello che si produce. Non ci sono sistemi che vincolano, che mettono un monopolio sotto, sopra, diciamo, un determinato ambito. Ed è un modello economico di fatto sostenibile. Quando parliamo di Linux stiamo parlando di qualcosa che ha una storia di 20 anni, di oltre 20 anni. Wikipedia è nata nel 2000, nel 2001 è nata Wikipedia. Le Creative Commons hanno più o meno, allo stesso modo, oltre 10 anni. La Repra per il 2006. Questo vuol dire che in tutti i casi stiamo parlando di progetti che hanno superato la soglia, che hanno superato quello che è l'esame della storia. Progetti che hanno dimostrato di essere economicamente sostenibili. Quando si parla di software libero, di open source, quello che spesso rimane oscuro, rimane non chiaro è ma come fanno a vivere, a sostenersi questi progetti. È un modello diverso di economia. è un modello dove di fatto mettere in mostra, procurarsi, acquisire una posizione all'interno di una comunità che è basata sulle capacità, che è basata sulla reputazione delle persone, ecco permette di poter spendere in maniera efficiente quelle che sono le proprie capacità, le proprie vere capacità, senza in qualche modo utilizzare delle forme di monopolio che non permettono quella che è l'incrementazione dello sviluppo, appunto il miglioramento dei prodotti, perché tanto non c'è concorrenza. Questi ultimi progetti, OpenStreetMap e OpenSource Ecology, sono due dei progetti molto belli, molto importanti, che appunto lavorano sempre sulle stesse logiche. OpenStreetMap è una mappa che ognuno può incrementare, ognuno può indicare che in quell'angolo ci sta una cabina telefonica piuttosto che un negozio. Ecco questo è un sistema che di fatto permette anche ai paesi più lontani, ai paesini, alle isole di essere mappati, perché ognuno può mettere la propria conoscenza a disposizione e rendere disponibile e quindi accessibile questo sapere. È chiaro che anche Google Map ha fatto un progetto estremamente importante, estremamente valido, ma non si può pensare che la Google abbia i mezzi per poter tenere aggiornato e mappare tutti gli angoli della Terra, cosa che invece attraverso questo progetto può avvenire. OpenSource Ecology invece è un altro progetto di un fisico di origine polacca che pensa che sia possibile, lui lo sta facendo, costruire e definire quelle che sono le istruzioni per potersi costruire, per poter autocostruire, perché chiunque possa autocostruirsi, le macchine, le 50 macchine necessarie ad una comunità per essere autosufficiente, da un trattore a una macchina per produrre mattoni crudi, a una paleolica, a una stampante 3D, a una fresa a controllo numerico. Ecco, è un'idea appunto, è un'idea di sapere che viene messo in condivisione, molto spesso è un sapere che ha maggiore qualità di quella a cui siamo abituati, il costo di un trattore o delle altre macchine di OpenSource Ecology è in genere molto molto inferiore rispetto al costo di una macchina appunto che si trova in commercio, nell'ordine di un ottavo o un decimo del costo e permette soprattutto di poter entrare dentro le istruzioni di quella macchina e quindi poterla aggiustare quando si rompe. Ecco, ora invece noi viviamo e abbiamo accettato quello che è un sistema principalmente basato su un monopolio, su un controllo, una sorta di occupazione appunto di tutti gli spazi che potrebbero essere liberati da questo appunto, questo sapere che può essere messo a disposizione. Allora, i costi di questo monopolio nell'ambito per esempio della professione del progettista, questo è un set di strumenti minimi per, più o meno, per un architetto, per uno studio, per un progettista, strumenti di scrittura, strumenti di disegno chiaramente, di modellazione, ecco diciamo che più o meno, questi sono prezzi non aggiornatissimi, un paio di anni fa, un anno fa circa, per ogni computer di uno studio, per poter fare il minimo che serve per avere, insomma, per poter lavorare, ecco servono 13 mila Euro, IVA compresa. Ecco, questa è la cifra che un giovane studente che esce dall'università deve avere per cominciare a lavorare, oppure deve farsela dare, chiaramente da una banca e sappiamo che oggi, se diciamo queste cose stiamo parlando di fantascienza. Allora, diciamo che queste stesse funzioni sono fattibili spendendo zero, almeno nell'ambito software, si può lavorare degnamente, professionalmente, senza spendere nulla. Ora, qua vanno detto un paio di cose, uno è che in questa lista ci sono due programmi freeware, come indicato, programmi, i programmi freeware sono dei programmi gratuiti, che sono gratuiti perché l'azienda vuole veicolare il nome della propria azienda e quindi in qualche modo far provare la qualità dei propri prodotti il più facilmente possibile, nella maniera più ampia. Ecco, i programmi freeware con l'open source, con il software libero non c'entrano nulla, questo va detto, va chiarito, è una cosa assolutamente che bisogna spiegare, sottolineare mille volte perché è giusto. Il motivo per cui ci sta in questa lista, e noi oggi parleremo anche di programmi non liberi, programmi freeware, è perché di fatto, proprio a causa di uno di questi monopoli, e ne parleremo alla fine dell'incontro, quando parleremo di CAD, proprio quello specifico campo è un campo in cui è stata bloccata sostanzialmente la possibilità di sviluppo dei software open source per quel campo specifico, appunto il CAD. Per questo le uniche soluzioni oggi professionalmente consigliabili, oggi sul mercato, magari domani non sarà più così, ma oggi è così, sono appunto delle soluzioni freeware, delle soluzioni gratuite, che hanno quantomeno un pregio. Il fatto di permettere a chi vuole fare la professione, a un giovane che vuole entrare nel mercato, di poterlo fare senza aprire un mutuo, che tanto non riesce, e senza entrare nell'illegalità, quindi rimanendo nei limiti della legge. e proprio di legalità, facciamo una piccola precisazione, questi sono dati statistici che vengono elaborati ogni anno da un'azienda, da un gruppo di grandi aziende produttrici di software, che monitorano quello che è il livello di pirateria in ambito professionale, quindi esclusi video, esclusa musica, solo in ambito professionale. Ecco, l'Italia viene descritta come un paese dove un software su due, all'interno di uno studio professionale, è un software pirata. Ora, io sono architetto, ho visto diversi studi, devo dire che io non ricordo di aver mai visto una copia di AutoCAD licenziata. Questo è perché è la normalità, perché lo sappiamo, perché siamo cresciuti dentro una cultura della copia pirata. All'università, gli stessi docenti, per fare gli esami in qualche modo, diciamo, non fanno questioni sulla provenienza del software utilizzato, anzi, sostanzialmente li impongono, pur sapendo che sono software del tutto inaccessibili per uno studente e anche per un professionista, almeno oggi. E allora, appunto, quando si scorrono le notizie che riguardano la pirateria, non manca mai la parola architetto all'interno di queste informazioni, appunto, che riguardano, che raccontano le retate della Guardia di Finanza all'interno degli iscritti. O per questa cosa mi sembra giusto sottolineare, come mi viene spesso fatto come notazione, di recente, negli ultimi due anni, ci sono state almeno un paio di sentenze della Corte di Cassazione che hanno dato ragione a dei professionisti, a degli architetti nello specifico, che utilizzavano software pirata, considerando la pirateria, appunto, la legge, la vedremo tra un po', è la legge, quella sul diritto d'autore, che chiaramente impone delle pene solamente per un uso commerciale del bene piratato. Uso commerciale che non è di per sé identificabile con l'attività professionale, quindi di fatto l'architetto non è un commerciante, non è un'azienda, spesso lo studio è professionale, comunque appunto è una natura giuridicamente differente e in un paio di casi è stato riconosciuto che l'architetto vendendo la propria prestazione e non di per sé il prodotto realizzato attraverso lo strumento, lo strumento pirata, non poteva essere considerato colpevole, questo è accaduto un paio di volte. Ora vorrei specificare, è vero che c'è chiaramente un precedente, ma questo di fatto non vuol dire che tutti possono fare quello che vogliono, perché questi articoli sono articoli veri, articoli che parlano di multe molto importanti, ora vedremo che cosa si esplicano quelle che sono le pene della pirateria e di azioni reali, quindi dico a chiunque consideri quelle sentenze, liberi tutti, in realtà prima di arrivare magari a un grado di giudizio dove posso far valere il fatto che si può interpretare così la norma, magari si può semplicemente evitare di arrivare a questo punto. E quindi chiudiamo con queste, quelle che sono le pene, giusto per avere un'idea di chi appunto utilizza materiale pirata, pene che sono penali, quindi si tratta di un reato penale, la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni, la confisca degli strumenti, il fermo amministrativo delle macchine, che vuol dire molto spesso il blocco di tutti i file che stanno dentro quelle macchine, magari a ridosso di una scadenza, di una scadenza che magari se non si rispetta impone poi delle penali da parte del committente. Quindi questo è un danno estremamente gravoso. E poi ci sta anche il regalamento, una sanzione amministrativa che equivale al doppio del prezzo di mercato dei software, questo vuol dire che per ogni software, su ogni macchina, bisogna calcolare il doppio del valore per capire quanto si paga e quindi si raggiungono facilmente cifre assolutamente esabitanti. Quindi questo credo che sia sufficiente un po' per avere il quadro, spero di aver detto un po' quanto serve, quindi rimango, direi che con questo concludo, rimango chiaramente a disposizione per eventuali domande e ripasso la parola a Fabio.